Un saluto ai lettori e agli ascoltatori di Sicilia 24H, torno con la rubrica le interviste della Star Melluti, quest'oggi sono felicissima della mia ospite che tra pochi minuti vi presenterò. Prima di iniziare, per chi mi conosce, sa benissimo che ho sposato la causa che difende la musica, il talento e la competenza, quindi difendo il voler salvare la musica contro il sistema della musica usaggetta. Sono lieta quest'oggi di avere come ospite Mina Blu, in arte Mina Blu, lei si chiama Daniela Iezzi, artista, musicista, cantante, cantante di strada che ci racconta tra poco la sua vita e perché ha scelto di non stare dalla parte della musica usaggetta. Do il benvenuto a Mina Blu. Grazie, grazie mille Simona. Sono felicissima di essere qui con voi. Io e Mina Blu ci vediamo adesso per la prima volta di persona, ma le nostre strade si sono incontrate un po' di tempo fa perché in quel posto dove c'è tanta robaccia, ma anche tanta roba bella che è TikTok, ho incontrato, ho scoperto Mina Blu. Mina Blu fa le sue dirette su TikTok dalla strada. Spiegaci perché fai la cantante di strada e poi pian piano andiamo al ritroso spiegando la tua storia e il fatto che tu fai musica da più di trent'anni. Esatto, allora quindi la domanda è perché faccio musica in strada? Sì, il punto cruciale è che stanca di un sistema corrotto, perché è un sistema corrotto specialmente quello italiano, ma in generale lo metterei anche vicino al sistema americano che è super corrotto, tra l'altro. Quindi stanca di questo sistema corrotto, stanca del poco spazio che viene dato a delle persone che vogliono esprimere la propria creatività in totale libertà. Ho deciso di cambiare strada e di prendere proprio veramente letteralmente di mettermi in strada per crearmi tutto quello che mi poteva servire per creare la mia carriera. Cioè prendere le risorse, sia economiche, prendere il pubblico e prendere esperienza, strada chiaramente in altri paesi, quindi andarsi a confrontare con culture diverse e con artisti diversi, perché poi la strada è come veramente un grande palco, perché ci sono tantissimi musicisti che la usano non solo per sbarcare il lunario, cioè togliamo questa idea che l'artista di strada può essere la persona povera che ha bisogno di mangiare e quindi invece di fare, di mendicare, si mette a fare un po' di musica in strada. Bravissima, ci sono anche quelli come c'è tutto, nel senso c'è… La strada è una forma di espressione, è proprio un modo di fare musica. Esatto, è una forma di espressione e soprattutto è appunto un palco che tu puoi usare senza doverti chiaramente sbattere per cercare qualcuno che ti faccia suonare, che poi ti sfrutta e ti sottopaga, sottopagati in Italia tantissimo e quindi la strada invece ti dà la possibilità di guadagnare dei soldi, di farti conoscere e di appunto crearti connessioni con altre persone che possono essere anche altri artisti o persone addette ai lavori o semplicemente persone, perché comunque è bello avere anche il punto di vista di diverso tipo, di diverso genere, quindi quando tu stai per strada puoi incontrare veramente chiunque di qualsiasi nazionalità. Io sento i miei sogni svanire e non so più pensare a nient'altro che a te. mi sono innamorata di te e adesso non so neppur io cosa fare il giorno, mi pento di averti e quindi diciamo che la fortuna è stata per me quella di andare a Berlino nel 2014 e in proprio dove veramente in tempi dove io non avevo idea di questa cosa, cioè io ho sempre... Credo che Miena parla perfettamente quattro lingue. L'Italia è una francese e inglese, non ho ancora altre... Però hai girato l'Europa. Sì, quello sì. E quindi adesso ci racconti che cosa c'è di diverso tra negli altri paesi europei rispetto all'Italia per quanto riguarda la musica. Sì, beh sicuramente c'è più varietà, ci sono più generi musicali e ci sono più mercati, quello sicuramente ci sono più mercati per cui non è necessario per forza essere pop nel senso più... però nel senso più triste del termine perché la musica pop... ci sono tanti tipi di pop però quello che c'è in Italia è un solo genere che funziona mentre invece all'estero ti puoi permettere di fare cose differenti perché ci sono appunto altri mercati e altri palchi altre... proprio altre... altre manifestazioni perché per esempio in Italia abbiamo soltanto Sanremo e poc'altro insomma ci stanno pochi festival... Qualcosina ma nulla... Proprio pochissimo... Mentre invece all'estero trovi festival di musica internazionale dove puoi trovare sul palco grande magari le superstar, quelle pop... però trovi anche i palchi più piccoli dove ci sono artisti che fanno musica elettronica, musica punk, musica rap, musica trap, musica funk, tradizionale, folk... insomma chi più ne va chi più ne metta... insomma tanti generi musicali... quindi tutti possono lavorare, tutti hanno dei riconoscimenti, tutti hanno appunto la possibilità di godersi la musica che amano... ok? E di poterla esprimere professionalmente su dei palchi... cosa che in Italia invece o fai quello che il mercato ti impone... e tra l'altro in Italia non c'è solo il problema della musica... nel senso non c'è solo il problema del genere musicale... ma c'è anche il problema che in Italia ancora si guarda all'età... cioè una cosa ridicola... una cosa imbarazzante... cioè praticamente se tu hai sopra i trent'anni già sei morto... cioè sei praticamente un cadavere dentro la bara... cioè veramente una cosa... Nina, prima di... a me interessa che tu racconti la tua vita quando hai cominciato a fare musica... come si è evoluto il tuo modo di fare musica... le scelte che hai fatto nel corso del tempo... ti vorrei fare una domanda... se tu oggi avessi vent'anni... parteciperesti a una dei tanti talent che ci sono... che monopolizzano se vogliamo la tv italiana... e quindi anche il mercato discografico e radiofonico? No, te lo dico perché non c'è bisogno di avere vent'anni... a me mi è stato chiesto due volte... ma proprio mi hanno pregata... quelli della redazione di The Voice Francia... dove per esempio in Francia... The Voice Francia non è che se io ho 40 anni... 45... ti dicono no... non puoi partecipare perché sei troppo vecchio... no... ti dicono va bene... cioè nel senso... chiunque può partecipare... per cui io sono stata pregata due volte... di fare The Voice Francia... una volta di fare X Factor Belgio... e ho detto di no... quindi come ho detto di no oggi... io ho detto di no... anni fa ad amici di Maria Di Filippi... avrei potuto provare ad entrare nel programma... ma non mi è mai interessato farlo... nel senso... mia cugina... Dici perché... perché... non ti interessa... beh... guarda... io ho mia cugina che è Grazia Di Michele... che penso che tu conoscerai... insomma... è un'artista degli anni 80... e lei è stata anche insegnante di amici... appunto... per cui... nel momento in cui era lei insegnante di amici... io avevo 25... 26 anni... una cosa del genere... e mia cugina mi disse... prova... nel senso... ci sto pure io... lì prova... prova a fare il provino... io ero molto riluttante... molto titubante... ho detto... cioè... comunque non mi piaceva questo tipo di cosa... però... comunque ho detto... vabbè... vengo solo per provare a fare sto provino... e... dove mi è stato detto che ero troppo... brava... praticamente... all'epoca... ero troppo brava per poter... ero troppo... cioè... troppo già formata... troppo già... professionale... nel senso... e in più portai... un brano originale... per il provino... non portai una cover... e questo chiaramente... non mi fece poi... non mi fece passare... di step successivi... ma io ne fui... ne fui veramente... sollevata... cioè... non ho proprio avuto nessun tipo di... di angoscia... perché... in realtà era una cosa che è stata più... da parte di Grazia... che la mia... cioè... lei mi voleva far andare lì... perché diceva... stai... stai in mezzo... ero molto in difficoltà economica... all'epoca... da... da giovane ragazza... che voleva insomma... no... fare carriera... non avevo molti soldi... quindi lei mi disse... almeno se entri ad amici... c'hai... comunque... devi stare nella casa... eh... devi stare... perché era... ti ricordi... era fatto che... dovevi rimanere lì a vivere... c'era tutta una... una roba... e ti davano anche dei soldini... dei soldini... per... per vivere... non fui... assolutamente triste... di... di non essere passata... perché... ripeto... a me già... solo andare lì... e fare il provino... mi aveva messo già molta... molto... mi sentivo molto... a disagio... perché mi sembrava una cosa... boh... innaturale... eh... tipo... tipo... bestie al mattatoio... queste file infinite di ragazzi... sotto al sole... aspettando... eh... di essere... visionati... per cantare... venti secondi... perché... ti fanno cantare... ti facevano cantare all'inizio... eravamo tipo... dieci persone... ognuno canta un pezzettino... e poi ti dicono... via... questo sì... questo no... è una roba proprio... è l'antimusica... cioè... non c'è... non c'è niente di musica... di artistico... in questo... capito? e... e dopo quello... io non c'ho mai... 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 più... voluto riprovare... nessun tipo di... 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 come li possiamo chiamare... di talent... nessun tipo di talent... perché l'ho trovato... l'ho trovato... l'ho trovato proprio... una... eh... spersonalizzazione... ho trovato che... 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 che praticamente le persone sono numeri... non sono artisti... sono giusto numeri... sono... eh... funzionali al programma televisivo... cioè... quello che fai... chi sei... alla fine a loro non mi interessa... cioè... a loro interessa che... fanno lo share in tv... interessa che creare... la storiella... magari drammatica... fare perno su altre cose... che non c'entrano niente... che si affrancano... ah... la musica... per cui... ecco... è un tipo di... di sistema e meccanismo... che sta... rovinando... che ha rovinato ormai... perché sono più di vent'anni che c'è questa roba... e ha rovinato... notevolmente... la... il panorama musicale... soprattutto... in Italia... ma... devo essere... devo essere onesta... purtroppo... l'ha rovinato... a livello globale... perché io... viaggiando e stando all'estero... ti posso dire che... tutte le volte che vado a cantare... per strada... arriva sempre... una... due... cinque persone... che mi dicono... ma perché non fai... The Voice... ma perché non fai... X Factor... come se... ormai... l'unica... fosse quella... l'unica strada... da percorrere... per poter arrivare... esatto... il riconoscimento eventuale... della propria... del proprio talento... esatto... oggi... ragazzi di amici... di... amici... di... X Factor... escono già però... dei talent... con... prodotti... confezionati... quindi... viene... viene data allora la possibilità... di avere questo prodotto... confezionato... pronto... per essere... ehm... mandato in onda... nelle radio... che... a ripetizione... ehm... mandano in onda... i pezzi... del... ehm... dei... dei... dei fortunati... o sfortunati... che dir si voglia... che vengono fuori dai talent... poi... lascia che a distanza di due anni... o di un anno... nessuno si ricorda più... di quel... di quel ragazzo... di quel disco... che è stato magari il tormentone di un'estate... e poi... avanti il prossimo... esatto... anche se poi... da lì... sono uscite... delle... delle realtà... che... che sono ancora... oggi... delle realtà musicali italiane... no? Cioè... alla... alla fine... se vai a vedere... le nuove... leve... della musica italiana... eh... praticamente... il 70%... sono uscite di lì... sono uscite di lì... compresi... i Maneskini... che hanno fatto... addirittura... un successo... mondiale... cioè... proprio... una roba... veramente... la follia... eh... e... e... eppure... sono tutti... prodotti... dei talent... tutti... quindi... quindi questo è molto preoccupante... perché... ripeto... sembra che non ci siano altre strade... per quello io ho preso la strada... perché ho detto... stando in strada... eh... magari riesco a beccare... innanzitutto... a crearmi delle risorse... eh... per potermi produrre... senza dover andare a pregare... capito... eh... persone... eh... di... di... magari di finanziarmi... perché... se vogliono... eh... finanziarti... poi ti devi piegare... alle cose che ti chiedono... quindi... di... essere qualcosa che non sei... di... eh... di... eh... di... 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 di È sempre solo un personaggio sessuale, cioè sempre un personaggio che mostra comunque il corpo e che crea comunque, che provoca, che provoca e che porta le persone a guardarti anche da un punto di vista sessuale, perché questa è la verità, altrimenti non si spiega come mai oggi ogni artista donna che sta su un palco, la gran parte, poi ci sono ancora per fortuna qualche eccezione, però se ci fai caso, dalle grandi star di Hollywood, quindi parliamo delle grandi pop star, vestono con dei costumi, cioè proprio il costume da bagno, cioè praticamente nude, cioè non hanno più i vestiti di scena, cose interessanti, no, cioè anche la stessa Angelina Mango, come hai potuto vedere dall'Eurovision, cioè con il costume, cioè proprio un costume bikini, cioè non bikini ma un costume insieme, tra l'altro sponsorizzato da un famosissimo stilista, quindi il giro si allarga e diventa sempre più, diciamo, circuito nel quale ognuno deve avere la propria festa. Mina dicevamo fai musica da trent'anni, più di trent'anni, hai incominciato a cantare che ne avevi solo dodici, raccontaci come sei, come Daniela è diventata Mina Blu. Mamma mia, domandona! Allora, ho iniziato prestissimo, per fortuna, perché, vabbè, io ho sempre avuto le idee chiare, cioè io da quando ho memoria, proprio da bambina, due, tre anni, mi dicevi che vuoi fare da grande, io la cantante, quindi non ho mai avuto dubbi, per fortuna, sono nata già con le idee chiare, e poi ho avuto la fortuna, appunto, di, ero sempre quella che cantava un po' dappertutto, sai, a scuola mi facevano fare sempre la solista, e alla fine degli amici miei, un po' più grandicelli, che suonavano, io ero molto timida, non mi volevo far sentire cantare, per cui sapevano che io cantavo sul balcone di casa mia, e quindi si nascosero dietro a una macchina, un giorno, perché volevano sentire come cantavo, e quando poi ho finito la mia performance con la spazzola, che facevo a casa, sono sbucati fuori dalla macchina e mi hanno detto, no, ma sei bravissima, ci dobbiamo portare da questo signore che ci insegna a suonare la chitarra, il piano, era un signore che insegnava un po' tutti gli strumenti, signor Damiano, e questo Damiano, niente, mi sentì cantare e mi disse, tu sei una bimba prodigio, avevo 12 anni, avevo questo già vocione abbastanza grosso per l'età, che avevo, e mi disse, assolutamente ti devo portare a cantare con me, devo parlare con i tuoi genitori, e quindi parlò con i miei genitori, i miei genitori non si sa come, perché non è che siano stati immediatamente dei grandi sostenitori della causa, e mi dice ero di farti studiare? Io stavo, andavo a scuola, per loro era una distrazione la musica, nel senso, devi studiare, almeno ti devi fare le scuole, poi quando sei più grande fai quello che vuoi, però per lì si fidarono di questo Damiano, perché Damiano disse ai miei che avevo un talento enorme, che avrebbe avuto piacere a farmi fare dei concerti con lui, e quindi i miei alla fine accettarono, per fortuna, e io ho iniziato prestissimo, quindi ho iniziato a fare piano bar con lui, e già a 15 anni mi chiamavano quelli della zona nelle Marche, perché io in realtà sono marchigiana, malgrado l'accento, Malgrado l'accento, che comunque sono ormai romana, però l'origine è marchigiana, e quindi lì nel territorio ero molto, chiaramente non c'è molta gente, perché ero molto conosciuta, e ho iniziato a lavorare anche con progetti di musica dance, negli anni 90, quindi ho prestato la mia voce per un progetto dance, che andò addirittura su Radio 105, questo brano, We are in love, si chiamava la canzone, con The Right Thing, si chiama il progetto, quindi ho iniziato veramente presto, ho iniziato a fare di tutto, ho lavorato con la Marche Big Band a 17 anni, quindi con 60 elementi, facevo jazz con sta band, ho fatto mille cose, fino a che a 18 anni, finita la Superiori, ho deciso appunto di lasciare la famiglia, e di andare a Roma, perché l'unica mia ambizione era quella di fare, appunto la musicista, in quel momento era solo la cantante, perché non avevo ancora capito, che invece mi interessava la musica a 360 gradi, per cui lì per lì facevo la cantante, quindi ho fatto tanta gavetta, tante concerti, tournée come corista, come tournistudio, insomma tutte le cose, addirittura la nave da crociera, ho cantato su una nave da crociera per due mesi, insomma ho fatto tante esperienze di diverso genere, fino a che poi ho capito che invece ero stanca di essere solo la cantante brava, che tutti, oh che bella voce, che bella voce, però non ero mai soddisfatta, quando sentivo questo complimento, sentivo sempre che mancava qualcosa, cioè che non mi esprimevo in toto, c'era qualcosa che non avevo ancora capito, e per fortuna a 30 anni, a 31 anni, ho deciso di iniziare a fare tutto da sola, ho detto io voglio provare a produrmi, voglio provare a fare musica da sola, quindi voglio scrivere, comporre, arrangiare, cioè non voglio più, soprattutto anche da donna, con una buona dose di femminismo, volevo un po' anche affrancarmi da queste figure maschili che predominano, che ti dicono sempre, adesso facciamo, adesso ti prendo, adesso ti, cioè adesso un canto, ti prendo, ti porto, ti faccio, ti dico, no, ti dico, esatto, quindi ho detto, ti dico che, non lo posso dire da sola, cioè posso fare da sola, il panice no, il cervello ce l'ho, cioè nel senso, lo posso fare da sola, per cui, mi ero stancata di queste figure, sempre che vogliono, sanno tutto loro, faccio tutto io, e tu stai lì, la bambolina, canti, c'è una bella voce, e va bene così, no, ho detto, io non voglio questo, io sono una persona che ha delle cose da dire, e voglio, e le voglio dire a modo mio, esatto, le voglio dire a modo mio, liberamente, anche, perché per fortuna sono una di quelle donne che è in grado di dire no, più che sì, ci sono le donne che invece hanno, fanno fatica a dire no, e io invece sono una che fa fatica a dire sì, quindi per me dire no è un attimo, quindi ogni volta che qualcuno mi dice qualcosa che non mi piace, io dico no, cioè ciao, vai, per cui ho iniziato questo, diciamo, ha iniziato a arrangiare questo disco, all'inizio era un progetto con il mio vero nome, Daniela Iezzi, si chiamava Meccanismi di Daniela Iezzi, ed era un progetto dove avevo raccontato in dieci canzoni la mia terapia, perché ho fatto una terapia con uno psicologo per tanti anni, per risolvermi cose personali, problemi, eccetera, e avevo deciso di esorcizzare un po' tutto questo, e anche di usare la mia esperienza per poter aiutare altre persone, altri, certo, e quindi volevo raccontare questa cosa e l'ho fatto con questo disco, che mi ha dato la possibilità anche di imparare come si arrangia, come si produce, tutta una serie di cose, e fino a che poi sono arrivata nel 2014 ad andare, quando ho cambiato i miei capelli da marroni a blu, c'è stato questo change, ed è stato questo change grazie al mio viaggio a Berlino, dove ho visto gli artisti di strada, ma non gli artisti di strada che vedevo a Roma, con la fisarmonica, il solito gipsy che suona per alzare qualche spino, esatto, ho visto degli artisti fantastici di tutto il mondo, che si promuovevano la loro musica originale attraverso la strada, e allora lì mi si è aperto proprio, c'è stato proprio un'epifania proprio, io la chiamo così, un'epifania totale, soprattutto quando ho incontrato questo artista italiano, che si era trasferito all'estero, un pianista, che era un pianista jazz, che poi invece si è diventato, fa musica elettronica con la loop station, suonando il piano, il digeridù, la tarabuca, una roba fichissima, e scrive le sue composizioni tra l'altro, e lui faceva un successo strepitoso, e c'aveva una vita, cioè l'ho visto fare proprio miliardi di persone intorno, ha venduto un sacco di dischi, e allora quando ha finito questa performance, gli ho chiesto, siccome era italiano, gli ho chiesto un po' la sua storia, per sapere come c'era arrivato a fare questo, e quando me l'ha raccontata, sono rimasta tipo, sei proprio folgorata, ci ho detto, ma che bella vita, cioè proprio che vita bellissima, e allora gli ho detto, ma la voglio fare pure io sta vita, e lui mi ha detto, sei stata all'estero per un po', sei stata all'estero per un po', per un bel po', alla fine sono nove anni, che ho diciamo, in percorso questa nuova strada, ecco, stando all'estero, e dal 2015 ho iniziato, proprio questo, dopo che ho parlato con questo ragazzo, che poi è stato il mio guru, mi ha aiutato un po' anche nel capire cosa comprare, sai, tecnicamente, per cui siamo diventati super amici, ancora oggi siamo in contatto, e niente, quindi ho iniziato questo percorso della strada, che mi ha aiutata a poter, appunto, crearmi le finanze, e le connessioni con l'estero, perché io sapevo che avrei voluto fare qualcosa a livello internazionale, perché il mondo è grande, e io lo voglio vedere tutto, perché sono super curiosa, e quindi ho detto, ok, mi sembra un ottimo modo per poter essere liberi, di fare la propria musica, senza doversi sottoporre a, appunto, a torture psicologiche, perché per me sono torture psicologiche, dover fare cose che non voglio fare, e ho iniziato, e tutto è partito. Mina, raccontaci che tipo di musica fai, e perché adesso sei in Italia, perché in questo momento sei in Italia. Beh, allora, la musica che faccio è elettropop, se vogliamo dare una definizione, di genere, e lo, lo potete comunque ascoltare, il disco su Spotify, su Apple Music, su YouTube, su Deezer, è dappertutto, anche sui social, uno ci può fare content, storie, tutto, e è un lavoro che ho fatto, veramente, tutto da sola, e mi sono solo appoggiata ad un programmatore, perché io odio la parte informatica, quindi, c'ho un programmatore che mi ha registrata, che ho pagato, quindi ho finanziato qualsiasi cosa, i video, ho prodotto tutto, ho creato veramente una roba enorme, e la domanda riguardo al fatto dell'Italia, purtroppo l'Italia, non sono tornata per cose positive, diciamo, dei piccoli problemi di salute, però avevo bisogno di prendermi cura di me, perché all'estero era un po' complicato, e allora ho deciso di spendere qualche mese, di tornare qualche mese, per finire di prendermi cura di me, di curarmi, fatto tutto ciò, ripartirò per l'estero, perché purtroppo, non mi dà purtroppo soddisfazione, è un peccato, però non mi ci sento proprio dentro, vedo che proprio non c'è, non c'è una porta aperta per me, perché il mio modo di vedere la vita, è la musica, è l'arte, è completamente distante da quella che, sì, purtroppo sì, questo si sta consumando, esatto, e in più qui conta molto il fattore dell'età, per cui qui ti fanno sentire vecchio, anche quando non sei vecchio, e a me onestamente non, cioè io penso che Forever Young è il mio slogan, cioè io sono una giovane per sempre, nel senso la giovinezza è uno stato mentale, non è nella passione, nello stato mentale, nella voglia di fare, di realizzare, e l'arte, qualsiasi forma d'arte non ha età, senza età, senza età, per cui, senti Mina, raccontaci una delle tue giornate qui in Italia, in questo periodo, insomma, raccontaci un po', in modo tale, poi invitiamo anche, in sovrimpressione, alla fine del video, andranno tutti i te contatti, quindi se qualcuno ti vuole, penso sicuramente, tante persone incominceranno, se non ti seguono già, incominceranno a seguirti, ve lo auguro, sui social, potranno, avranno modo anche di sentirti cantare live, insomma, questo mi farebbe molto piacere, assolutamente, beh, adesso dove sei Mina? Allora, in questo momento sono a Napoli, allora io ho passato i primi due mesi, perché sono tornata proprio, ho lasciato la mia casa a Bruxelles, dove sono stata per cinque anni e mezzo, l'ho lasciata il 30 gennaio e i primi di febbraio ero a Roma, dove ho ancora questo piccolo mini monolocale di 14 metri quadri, a sette minuti dal Colosseo, quindi sto proprio in centro storico, e per cui sono tornata un paio di mesi a Roma, e ho deciso di andare un po' più a sud, perché mi interessava molto il panorama napoletano, perché devo dire che alla fine ho fatto diverse esperimenti, diversi esperimenti di busking in altre città d'Italia, compreso il nord, e ti devo dire che non ho avuto grande reazione, mentre invece Napoli ho trovato che forse è la città della musica in Italia, non ci stanno secondo me altre città dove la gente apprezza davvero qui la musica, chiaro che vogliono sentire più roba italiana, infatti io quando faccio, sono sempre italiani, quindi hanno comunque un approccio differente, però ha un giusto mix anche, fai le cover ovviamente per strada, esatto, quindi faccio un po' di cover inglesi, un po' di cover italiane, e ho trovato appunto molta più reattività, gioia, un sacco di gente curiosa che ti vuole parlare, che vuole conoscere la tua storia, e me ne sto un po' in un ambiente un po' più gioioso, perché Roma è diventata un po' ostica negli ultimi anni, quindi l'atmosfera è un po' pesante, non mi andava di stare troppo a Roma, e quindi niente, quindi sono qui da ormai un mese e mezzo, e starò fino alla metà di giugno, e poi dalla metà di giugno è che posso finalmente ritornare a viaggiare, in giro per l'Europa, che è quello che mi va di fare. Mina, sfruttiamo questo mezzo, diciamo, che cosa cerchi in questo momento? Cerchi, qualcuno ti ha domandato, cerchi per caso una casa discografica? Ho sentito che ti hanno posto, molto spesso ti pongono questa domanda, Mina, ma stai cercando una casa discografica? Tu puntualmente rispondi? No. Famoso no. Spieghiamo perché. Spieghiamo perché. Allora, oggi come oggi non è necessario più, per fortuna, una volta era duopo, cioè non potevi fare, altrimenti c'era quello e basta. Oggi abbiamo internet, abbiamo i social, abbiamo tante altre opzioni, per cui la casa discografica non mi serve, perché io ho già prodotto il mio album, quindi il mio album è finito, e quindi non mi serve né un produttore, né una casa discografica, né un manager, perché il manager è una figura, ho avuto a che fare in Belgio con un manager, e non si può fare, perché sono figure che speculano molto sull'artista, a meno che non sia veramente un manager di livelli, che ne so, giganteschi, allora già ci si potrebbe fare un pensierino, però questi mezzi manager che te passano davanti non mi servono a niente, quello che mi serve a me in questo momento è promuovere il disco che ho prodotto, perché senza la promozione, come sai bene, non c'è mercato, non c'è storia, quindi a me serve un promoter, e servirebbe un impresario, che poi all'estero viene chiamato booking agency, quindi un'agenzia che mi può far creare dei tour di promozione dell'album, che è inattivo, perché l'album è sulle piattaforme ovunque, è già attivo, è già uscito, è già uscito, è già disponibile, può essere ascoltato, esatto, l'album si intitola? L'album si intitola Same Mistakes, che significa stessi errori, anche questa volta, le stesse parole, ti ascolto e penso che, non è cambiato niente, sempre le stesse storie, io non ne posso più, devo affrontare le cose di me, che non sono ancora cambiate, e appunto è un album molto bello, che necessita, che ha bisogno di essere ascoltato, e senza la promozione, sai bene come gli algoritmi sono difficoltosi, per cui se non lo conosci, se non sai che Mina Blu esiste, è normale che poi su Spotify non lo trovi. non si non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, What you wanna see I spend my life Fighting for freedom Against the system Of homologation You don't know What I'm thinking about You don't know What I'm feeling right now The only thing I really need is to do Per cui non la troverai Non la puoi neanche cercare Perché non sai che c'è Per cui ho bisogno che qualcuno Cominci a dire Ragazzi esiste Mina Blu C'è Mina Blu C'è Mina Blu E allora le persone possono poi andare Ascoltare E se poi gradiscono Possono seguirmi E condividere Per spargere la voce Diciamo questo è il È la cosa per cui sto Lavoro tanto In questo periodo Sto sempre insomma Alla ricerca di questa figura Ma è molto difficile In questo momento Non ho ancora trovato Nessuno che mi Mi possa dare una mano Quindi spero di Trovarla presto Ti auguriamo di trovarla Presto Prestissimo Perché Mina Blu Questa domanda Avrei voluto Fartela anche in passato Cioè negli giorni scorsi Però Ho atteso oggi Mi incuriosiva Il fatto del Blu E del nome Mina Allora Considera che Parlando ti avevo detto Di questo manager No? Che avevo conosciuto In Belgio Siccome io in Belgio Ho avuto un discreto successo Prima della pandemia Io stavo avendo Dei Proprio Un'esplosione gigantesca Con delle video virali Da un milione di views Quindi In Belgio Mi hanno fatto interviste Giornali Televisioni Cioè un sacco di Di successo Ecco Prima Appunto Di arrivare a questo successo Però Appunto Io mi faccio chiamare Con il mio nome e cognome Che all'estero Purtroppo Risulta difficoltoso Perché quando tu dici Daniela Iezzi E lo vedi scritto La gente Non so perché Mi chiamava Daniela Lezzi Con la L Non si sa perché Quindi Questo manager Che appunto Mi Cominciò a lavorare con me Mi disse Guarda Questo nome Purtroppo Non funziona Perché abbiamo bisogno Di un nome Che sia Pronunciabile Diciamo Da tutte le nazionalità Un nome semplice Che è facilmente Pronunciabile C'hai un nickname E io ho detto Guarda Io ce l'ho un nickname Qual è il tuo nickname Il mio nickname È Mina Però Mi ho detto Mina Non lo posso usare Perché esiste Una cantante italiana Che si chiama Con lì Famosissima C'è proprio la storia Del canto italiano E si chiama Mina Ed è un nome Effettivamente Che è facile da ricordare È corto Però Non posso utilizzarlo E allora Mi fa Come possiamo farlo E ho detto Guarda Fammi ci pensare un attimo A quel punto Mi sono ricordata Che un amico mio tedesco Mi chiama Baby Blue Lui mi chiamava Baby Blue E allora ho detto Mina Blue Cioè ho preso Questi due nick Che mi hanno dato amici Praticamente Gli altri Però E li ho messi insieme E li ho messi insieme Ed è nata Nel 2019 Cioè praticamente Lui quando propose Il nome a delle persone In giro Tutti se lo sono ricordato Immediatamente Tutti hanno detto Che è un nome molto Catchy Che te lo ricordi Sembra Un nome famoso Sembra già un nome Di un personaggio famoso E quindi è nata Questa Mina Blue E per me adesso Daniela non esiste più Cioè io non mi presento mai Come Daniela Mi presento come Mina Perché rappresenta Proprio una nuova persona Una persona Che ha deciso Di appunto Di abbandonare le paure E di andare dritta Come un treno Sulla sua strada Questo Che è colma Di tutte le sue passioni Della sua arte Della sua voglia Di vivere Di continuare A fare Musica Esatto Ho deciso Di fare Questo Questo pezzo Che è Completamente Lontano Dal mio genere Ma volevo Denunciare La scarsezza Di contenuti Del web Dei social Per cui Diciamo che ho voluto Creare una canzone Che possa essere Un tormentone In romanaccio In romanaccio Tra l'altro Facendo un po' La repettara La treppettara Non so come dire Insomma Facendo un po' Il bad guy Per denunciare Appunto Questi contenuti Che sono Assolutamente Di bassa qualità Dove i messaggi Sono Sono senza senso E appunto Ho citato Alcuni slogan Che sono diventati Molto famosi Su tiktok Che hanno creato Dei personaggi Che oggi Hanno Comunque Molto successo Sia sul web Che anche In televisione Perché sono anche Ospiti di programmi Per non aver poi Fatto niente Di che Per cui Ecco Questa è la canzone E il senso Di questa canzone Quindi denunciare Tutto ciò E dai Riga Me sarò Terca Che devo Da fa' Per farmi Seguì Che me devo Inventare Per farmi Guardare Per avere C'è tu sputi De fama Oggigiorno Purtroppo Ti tocca Far porno Mortasci De pippo Che ansia Che me viene Quando guardo Li social Mi taglio Le vene Non capisco Come ci siamo arrivati A essere tutti Così De cerebrati Solo se fai Fra fra Paropopo E otta gata Solo se fai Fra fra Paropopo E otta gata E c'è le zine De fuori Riesci a fa' Milioni E milioni De visualizzazioni E se invece C'hai qualcosa Che fanno Che fanno Do fai Non te guarda Nessuno E poi pure Morì Oh Yeah Oh Yeah Oh Yeah Solo se fai Fra fra Paropopo E otta gata Solo se fai Fra fra Paropopo E otta gata E c'è le zine De fuori Riesci a fa' Milioni E milioni Di visualizzazioni Mina Prima di lasciarci Volevo chiederti una cosa Conosci Luca Jurman Questo nome Ti dice qualcosa? Sì Il nome Mi dice Qualcosa Perché Era un Insegnante Di amici Avendo mia Cugina Che era Nel Programma Qualche volta Mi è capitato Comunque Di dare un'occhiata E ho visto Ho visto Lui In diciamo In azione Come insegnante E poi Qualche tempo dopo Mi è capitato Anche di vedere Qualcosa Attinente La sua Rivolta Tra virgolette Contro Il sistema Anche contro Il sistema Di amici Per cui Avevo visto Giornali Artioli giornali Qualcosa anche Online Della sua Battaglia Però ecco Non lo conosco Né personalmente E non conosco Nel dettaglio Tutto quello Che lui sta facendo Però so Che è uno Che combatte Contro questo sistema Allora Mina Benvenuta Nel club Sì Siamo Pian piano Stiamo mettendo Insieme Dei pezzi Stiamo mettendo Insieme Delle persone Che hanno Effettuato Che hanno fatto Delle scelte Che scelgono Così come Questo accade Anche per te Di stare Dalla parte Bella Della musica Della musica Libera La musica Che si basa Sul talento Sull'opportunità Sulla competenza Sullo studio E soprattutto Sulla libertà Alcune logiche Che sono Assolutamente A discapito Della musica Quindi Logiche Che sono Illogiche Direi Logiche Illogiche È vero Illogiche È beleteria Esatto Per la musica Mina Ti ringraziamo Ti ringrazio personalmente Per aver accettato Il mio invito Grazie Ti auguriamo Ci terremo ovviamente In contatto Hanno I nostri Ascoltatori Hanno avuto modo Di ascoltare Alcune parti Dei tuoi lavori E Sono Felice Che le nostre strade Si siano Incrociate Perché questo È il bello Anche Del mondo Della musica Poi alla fine In qualche modo Ci si trova E ci si È vero Ci si Ci si Confranta E questo È ancora Un grande dono È una cosa Talmente bella Che dobbiamo Provare a A tutelarla Ti auguriamo Tante belle cose Tanta musica E tornerai a trovarci Perché ti seguiremo Anche nei prossimi Nei prossimi Step Del tuo percorso Artistico Grazie per l'opportunità Di poter dire Insomma La mia storia Perché è sempre Una cosa Che mi fa Molto felice Mi rende molto felice Perché non è sempre Facile trovare spazio Per poter raccontare Per poter dire Quello che È la mia storia Quello che è la mia vita Che poi La mia vita In questo momento Rappresenta un po' Una categoria Non è solo Parlare di me Come Mina Blu Ma di tutti quelli Che come me Hanno Hanno questo sogno Di fare Di creare Di essere degli artisti Di esprimersi Ma poi Vengono boicottati Da queste logiche In logiche Come l'abbiamo chiamate Per cui Mi fa piacere Di poter essere Diamo portavoce Di questo Quindi Magari C'è sicuramente Ci sono tantissimi cantanti Tantissimi Artisti Persone che Capaci Competenti Talentuose Che fanno musica Che vogliono fare musica Ma che Trovano Non trovano La loro strada Perché Non sono disposte Ad entrare in determinati Meccanismi I famosi Meccanismi Logici Grazie Mina È stato un piacere Un saluto A tutti Gli ascoltatori E lettori Di Sicilia 24H E alla prossima Alla prossima Grazie 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 a tutti.